Importante vittoria in trasferta per la Reggio Mediterranea nel derby contro il Bocale. L'uno a zero appunto che è scaturito dalla rete di Lancia per la squadra in trasferta ha consentito proprio alla squadra Reggio Mediterranea di raggiungere il San Luca reduce dal terzo pareggio consecutivo. Si ripropone così la Reggio Mede, come solito viene chiamata, nelle posizioni di alta classifica come peraltro era stato nello scorso campionato quando ha dovuto lottare con il Corigliano fino alla fine del campionato. Quest'anno è un campionato molto più equilibrato, tant'è vero che ci sono ben sette squadre nel spazio di tre punti e significa che tutta si dovrà decidere negli scontri diretti. Comunque fatto sta che vincere un derby in trasferta, in questo caso anche se diciamo tutte e due le squadre tra Reggio e Calabria, è importante anche perché il Bocale di mistero alla pace poteva avere l'opportunità di rientrare anch'esso nelle zone altissime della classifica. Così non è stato per la squadra padrona di casa, invece la squadra in trasferta, come dicevamo, si attesta nella prima posizione della classifica.